Speciale copertina prima alla scala in collaborazione con ANCI, associazione nazionale calzatorifici italiani e dell'era pellicce. ANCI, associazione nazionale calzatorifici italiani e dell'era pellicce. Sulla scena il Don Giovanni di Nolfang Amadeus Mozart diretto dal maestro Daniel Barenboin. Questa è la seconda puntata del lungo speciale televisivo che io sto dedicando, così come ormai tradizione, da tantissimi anni a questa prima in questo teatro che è il massimo tempio della musica nel mondo. Quindi naturalmente nella prima puntata abbiamo già conosciuto il dramma di Don Giovanni, a parte che è un dramma famosissimo, quindi abbiamo fatto vedere alcuni momenti dell'opera. Abbiamo già incontrato tantissimi ospiti italiani e internazionali. Naturalmente racconterò anche durante questa lunga puntata altri aspetti di questa prima, per esempio il doposcala che è un ruolo molto importante. Ho parlato anche naturalmente del Don Giovanni di Mozart, del mito di questo seduttore, di questo libertino, di questo uomo libero di pensiero che vuole conquistare tutte le donne. Insomma diciamo un Macchiavelli della seduzione, visto che ogni cosa è possibile purché lui riesca a conquistare una donna. Vorrei sottolineare naturalmente, ma l'ho fatto anche nella puntata precedente, la presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano con sua moglie Clio, del Premier Mario Monti con sua moglie Elsa, Presidente della Regione Roberto Formigoni e fare anche un complimento veramente al cast che è fatto di voci eccellenti. E' una serata bellissima, sta andando benissimo, ma vorrei veramente sentire la testimonianza della sua soddisfazione. Vedere il Presidente Napolitano e il Presidente del Consiglio Mario Monti insieme così è stata una bella cosa. Non è successo spesso alla Scala che le due autorità dello Stato e del Governo siano insieme. Secondo lei appunto le Signore della Scala saranno un po' conquistate da questo Don Giovanni che non solo è bravissimo ma anche un bell'uomo, Peter Mattei, insomma una splendida voce tra l'altro. Io penso che noi abbiamo una fortuna di avere veramente sul palco scenico della Scala Questa Senale i più grandi contanti al mondo e questo lo dico, Peter Mattei come Don Giovanni, certamente il corero più bravo oggi, chi si può vedere che Brinter Fell, la Elvira della Barbara Fritoli, la donana dell'Annate Treppo, Giuseppe Figlianotti, veramente io penso poi tutti, Gerlini, ma veramente c'è un cast stelere per me. Lina Sotis, ma allora parliamo di questo Don Giovanni, gran seduttore, libertino? Beh magari ce ne fossero, non so, parliamone, ma ormai quegli uomini lì non ci sono più. Forse hanno paura di finire lì per i noi. No, semplicemente si sono stufati, l'offerta è superiore alla domanda, a farsene una ragione. Claudia Muccellati, in velluto rosso, è un omaggio a questo trionfo rosso scaligero, è vero? Assolutamente sì, mi è sembrato divertente adeguarmi a questo Don Giovanni che trovo straordinario. E poi è emblematico perché là ci daremo la mano e in fondo nel palco reale abbiamo visto molte alleanze. Non dobbiamo dimenticarci che siamo nel 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, magari si poteva fare un'opera di Verdi invece che di Mozart, comunque va bene tutto, l'importante è che si rappresenti ugualmente un grande momento di promozione territoriale per la città di Milano. Eva Cara, allora, bellissima, elegante, in nero, firmata da... Raffaella Curiel Giovanni, è un Don Giovanni? Allora speriamolo sia solo con me. Soprattutto non lo mandiamo agli inferi come Don Giovanni. Esatto, esatto. Non lo mandiamo di no, assolutamente no. Come ti è sembrato Inge, questo Don Giovanni di Mozart? Sono fantastici voci, voci incredibili, raramente sono tre, quattro, cinque, una più bella dell'altra, e io sono per la modernità totale. L'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia e tu hai voluto... Era meglio oltre la borsa per anche un'opera italiana. Sì, questo è vero però, questo bianco rossere, queste farfalle che ci fanno spiccare un po' libere. È vero. Libere. Ma poi lo regalo al Museo del Risorgimento, l'ho messo stasera e l'ho fatto apposta. Non tutti i seduttori, per fortuna, finiscono agli inferi come il Don Giovanni. Ma secondo me essere dei seduttori è sempre bello. Non esagerare, cioè non giocare troppo, perché Don Giovanni è un pochino, più che un grande seduttore, un po' un seduttore malandrino diciamo. La città della moda a Milano alla scala si presenta molto elegante, sempre con gli abiti di alta moda. Possiamo sapere la tua... Sì, Luisa Beccaria Couture. C'è un cambio di abiti continui, insomma il Don Giovanni è anche veramente... è un po' inarciso, ma è normale per un seduttore. Direi sorprendente anche, perché in effetti io ne ho visto più di un Don Giovanni, questo è molto particolare. Comunque bravissimi gli interpreti, è una musica splendida. Alla scala è un capitolo sempre molto interessante l'eleganza delle signore e allora vediamole in questa prestigiosa passerella. Marinella Di Capua, firmata da Renato Balestra, Gabriella Dompe con un abito ferre, abiti curiel per Clio Napolitano, Laura Morino Teso, Alessandra Artom, Eva Leigheb. Abito Laura Biagiotti per Morine Salmona, Armani per Elsa Monti, la moglie del Premier e per Cinzia Pisapia, moglie del Sindaco di Milano. John Richmond per Alessandra Moschillo e Vera Battazzi, abito Versace per la protagonista Barbara Frittoli, Don Elvira, che incontreremo al Doposcala. Abito Luisa Beccaria, naturalmente per la stessa stilista, ma anche per la contessa Marta Brivio Sforza, per Giovanna Salza, moglie del Ministro Corrado Passera. Iris Miani-Ermolli, firmata Lorenzo Riva. Donatella Brunazzi in uno smoking, firmato NH Atelier. Paola Primavera, in abito Gianni Tolentino, autore anche del mio abito. Abito Dior per Caterina Balivo e Ralf Loren per Barbara Berlusconi. L'opera è ancora in scena, ma come ormai tradizione a questo punto dell'opera, andiamo a fare una visita in regia audio-video, dove ci attengono il responsabile, Nicola Urru, il suo staff. Sì, ma è diventato un rito venire qui e guarda, noi ci teniamo e ti ringraziamo tantissimo. Poche parole, cosa dire, il Don Giovanni, il Don Giovanni, la scala dentro la scala, un cast bellissimo di cantanti, proprio assolutamente, una direzione impeccabile di Barenboi, che adesso è al buio. Però è poi una regia, diciamo, un po' minimalista, molto minimalista, che nei tempi che corrono forse può andare anche bene. Però io vorrei approfittare veramente di questa visita alla sezione degli audiovisivi, alla regia degli audiovisivi, per sottolineare quanto è importante la grande fabbrica della scala, perché naturalmente è importante quello che avviene sulla scena, è importante la musica diretta dal maestro Daniel Barenboi, il cast che è di voce assolutamente eccellente, la grande orchestra della scala, ma anche tutte le maestranze, i tecnici, gli esperti che lavorano e che ognuno svolge il suo ruolo in maniera impeccabile, così che ogni spettacolo scaligero diventa veramente perfetto. Sei d'accordo? Guarda, sono d'accordo e sono veramente contento che tu fai una precisazione così sulle maestranze, perché non ne parla quasi mai nessuno. Tu figurati, questa è la mia trentunesima prima e come me ce ne sono ancora degli altri, delle persone molto professionali. Speciale copertine